benvenuti ragazzi siamo su inferno bianco un gioco testuale quindi non aspettate di esplosioni grafica hd full hd 4k ecc è un gioco in cui la vostra fantasia vi farà avere la migliore definizione che possiate immaginare eviterò anche di leggere il testo perché voglio che siate proprio voi ad associare una voce ai personaggi di questo gioco andrò comunque a intervenire ad intrattenervi e a commentare quello che sta succedendo ora vedo che ho una richiesta di comunicazioni in arrivo siamo qui collegati alla nostra trasmittente andiamo a leggere allora sembra che qualcuno stia provando a contattarci ma non si capisce bene cosa e gli dico che ci sono delle interferenze sembra che abbia risolto quindi si va molto meglio ok ci troviamo in una situazione abbastanza strana chiediamogli cosa è successo non so proprio come aiutarlo vediamo se riusciamo a ricostruire un po' l'accaduto e beh non ne ha idea nemmeno lui vediamo se sa almeno dove si trova che abbia un'amnesia sembra chiaro ecco non è indeciso deve essere in alaska o in siberia ma di adams ok il nostro amico adams ok ottimo sfortunato in alaska su un lago ghiacciato una motoslitta che sta affondando cosa vuoi di più dalla vita beh diciamogli di ispezionare la valigetta a questo punto vediamo se ci sono dei documenti o qualcosa che possa aiutarci ok il nostro adams ora è occupato è una situazione un po' particolare non so proprio cosa possa essere successo probabilmente è un ricercatore non penso sia in viaggio da solo in alaska probabilmente sta lavorando a qualche monitoraggio delle temperature qualcosa del genere questo gioco è fatto di molte pause quindi registrarlo completamente tutto un corpo sarebbe impossibile devo aspettare che sia adams a contattarmi quindi questo rende la cosa molto interattiva durante il giorno durante la notte lui vi contatterà chiedendovi aiuto rieccolo ok eviterò di leggere per aiutarvi beh ispeziona un simbolo dai vediamo cos'è questo simbolo magari ci riporta all'agenzia per cui lavoriamo apriamo la valigetta già che ci siamo vediamo cosa c'è dentro no ok secondo me non penso ci siano soldi nella valigetta sarà sicuramente qualcosa di utile qualche informazione ok speriamo ci sia una bomba questi click mi spaventano beh quando si gira la chiave si gira verso destra per aprire giriamo verso destra ok beh se giriamo a sinistra si chiude rigiriamo verso destra a meno che non sia una cassa a volte pensa continuiamo a giriamo a destra ecco eh fortuna sfacciata guarda beh a questo punto continuiamo a destra non c'è due senza tre no vediamo se siamo fortunati ah perfetto come vedete sono come lupe in terzo un tesoro ok sta mangiando il nostro adams non gli è piaciuto? ah dalla carne secca quindi non l'ho mai mangiata ma probabilmente fa schifo da quello che ci sta dicendo dottor W. Sibelius Sibelius ricerca e sviluppo biomedico ecco ci siamo andati vicini qualche ricerca biomedica in antartide beh non so di chi sia questo sangue sinceramente non pensiamo ci andiamo avanti ok 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 è almeno qualcosa di buono beh potrebbero essere venuti il nostro soccorso quindi segnaliamo la nostra presenza ok ecco qualcosa non va è un po' sfigato il nostro amico oh cavolo mmm sembra che l'elicottero stia precipitando ora prima di scoprirlo mi do appuntamento al prossimo episodio dove vedremo cosa stava succedendo a quell'elicottero spero che questo questa modalità di gioco vi piaccia ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao